Martedì ultime, deboli precipitazioni sul Vicentino, nel primo mattino schiarite a partire da sud, la giornata rimarrà variabile con spazi soleggiati soprattutto nel pomeriggio, temperature stazionarie, mercoledì bella giornata di sole su tutta la provincia, temperature minimi di evo calo massime che tenderanno ad aumentare estremi termici in pianura tra 7 e 17 gradi, giovedì altra bella giornata, clima mite, valori ben oltre la media del periodo, a fine settimana la spinta dell'anticiclone africano manterrà tempo stabile e soleggiato soprattutto sui rilievi in pianura, torneranno nei pianuri basse, l'ottero termico sarà ben oltre i 3000 metri.